Radio Radicale siamo con l'Onorevole Scerra del Movimento 5 Stelle che è uno dei tre questori della Camera dei Deputati. Nei giorni scorsi c'è stata una forte polemica su un ufficio di presidenza che si è svolto in concomitanza con la chiusura del bilancio consuntivo del 2022 che poi dovrà essere votato dalla Camera la prossima estate. Allora, l'ufficio di presidenza, da come mi è stato riferito, all'unanimità aveva deciso di bloccare l'aumento delle indennità. Una decisione che è stata presa, mi hanno spiegato, dal 2016 in poi. Sì, sì, da tanti anni. Da tanti anni. Molti dell'ufficio di presidenza poi sono venuti da me poco dopo l'ufficio di presidenza e mi hanno, diciamo, manifestato un certo risentimento perché, secondo quanto mi hanno riferito, mi hanno riferito nel corso dell'ufficio di presidenza e lei avrebbe fatto un tweet dove, diciamo, si intestava il blocco delle indennità. Poi abbiamo visto anche quello che è successo in aula. L'Onorevole Giacchietti ha, diciamo, evocato Victor Hugo, dandovi dei miserabili. Allora, mi racconti un po' che cos'è successo e che cosa, insomma, che cosa può dire? No, no, posso dire tanto perché quando si ha la verità dalla sua io non ho problemi a raccontare quella che è la verità. Intanto i cittadini devono capire come funziona, cioè come si arriva all'approvazione del progetto di bilancio della Camera. Ci sono due organi protagonisti. Uno è il Collegio dei Questori, del quale io faccio parte assieme al Questore di Fratelli d'Italia e al Questore della Lega e poi c'è l'ufficio di presidenza. Diciamo che il 21 dicembre ci siamo riuniti in ufficio di presidenza e in ufficio di presidenza si è votato all'unanimità, confermo, e non c'è stata nessuna discussione. Ma il sottoscritto non ha mai detto che in ufficio di presidenza ci sia stata una discussione e questo è il punto importante. Allora, riepiloghiamo. Il Collegio dei Questori ha affrontato la situazione del progetto di bilancio ai primi di novembre. Ai primi di novembre è successo che quando è arrivato il progetto di bilancio, mi metto comodo, quando è arrivato il progetto di bilancio c'era in questo progetto l'incremento degli stipendi dei parlamentari. Allora il sottoscritto ha detto, signori, io questo progetto così non l'approverò mai. E quindi c'è stata una discussione che è durata qualche giorno, le dico, non è stata semplicemente un'approvazione del blocco immediata come qualcuno paventa, quindi c'è stata una discussione che è durata qualche giorno, nella quale io ho sostenuto con fermezza che non potevamo permetterci di fare un'assurdità del genere. Allora, le riunioni dell'ufficio di presidenza sono stenografate? Allora, i verbali, nell'ufficio di presidenza è un discorso, il collegio dei questori è un altro discorso. Io sto parlando di collegio dei questori. Nel collegio dei questori ci sono delle interlocuzioni, e quindi non ci sono dei verbali, però ci sono tutti i funzionari. Diciamo così. Allora, a novembre si era aperto un altro. Diciamo così, che quando io torno al collegio dei questori, dicendo quello che le sto dicendo, io posso guardare a testa alta tutti, perché io so quello che è successo e tutti sappiamo quello che è successo. E tutti sappiamo che c'era un progetto di bilancio che conteneva l'aumento. Questa è la verità, e di fronte a questa verità io non ho nessun tipo di problema. Mi scusi, mi faccia finire. Quindi, quando dopo qualche giorno si è arrivati alla mia posizione, e l'altro questore che aveva qualche dubbio è arrivato alla mia posizione, io non ho mai attaccato, perché ognuno ha il suo processo logico per maturare le decisioni. Io l'ho maturata immediatamente, qualcun altro non l'ha maturata immediatamente, perché evidentemente non ha compreso la gravità di quello che potesse comportare un incremento. L'ha compresa dopo. Il sottoscritto non ha mai detto, l'hai compresa dopo, quindi ti colpevolizzo. Il sottoscritto ha semplicemente detto, io con fermezza mi sono opposto, e quindi gli altri poi sono arrivati alla mia conclusione. Benissimo. Poi, andando all'ufficio di presidenza, il 21 dicembre, in ufficio di presidenza è successo che tutti all'unanimità hanno approvato. Poi lei diceva il tweet. Il tweet è stato, diciamo, un errore di tempistica, per il quale io ho detto, signori, la tempistica è stata sbagliata, l'ho ammesso. Ma io non ho mai... Cioè, ma lei il tweet quando l'ha fatto? L'ho fatto quando ancora non era finita la riunione, è quello il punto. È solo quello il punto. Nel senso, non ho mai, non mi sono mai tirato indietro rispetto a quello che è successo al Collegio di Questori. Quello che è successo al Collegio di Questori è quello che lo sto raccontando io. E le torno a ripetere, quando io tornerò al Collegio, io sarò tranquillo, perché io so che ho detto la verità e che sto dicendo la verità. Qualcun altro magari si dovrebbe un po' vergognare. Allora, senta, da quello che mi hanno detto, la decisione, cioè la questione dell'indennità è una... diciamo, viene... c'è un automatismo che permette l'aumento dell'indennità. Però, se c'è l'unanimità dei Questori, questa viene bloccata. Allora, le decisioni però si prendono verso la fine dell'anno? No, le decisioni... Al Collegio di Questori, noi abbiamo preso questa decisione il 9 novembre. Quindi non è alla fine dell'anno. Il 9 novembre abbiamo preso questa decisione. Le ripeto, abbiamo iniziato a parlare di progetto di bilancio alla fine di ottobre e quindi per qualche giorno abbiamo avuto sul nostro tavolo il bilancio con l'aumento. Ora io non vi faccio vedere il bilancio con l'aumento perché sono un Questore e non lo farei mai. Però le assicuro che è così. Quindi, quando qualcuno viene a dire... Ecco, ma la deliberazione avviene alla fine dell'anno? La deliberazione finale avviene in ufficio di Presidenza. All'ufficio... E quindi l'ufficio di Presidenza, in ufficio... Quindi funziona così. Proposta da parte del Collegio dei Questori, ma prima c'è stata una discussione tranquilla nel Collegio dei Questori nella quale io ho sottolineato che non potevamo permetterci quell'aumento. Qualcuno inizialmente aveva qualche dubbio, poi quei dubbi sono stati fugati grazie alla mia insistenza e questo lo rivendico, lo rivendico con molta tranquillità. Chi è che c'aveva dei dubbi? C'aveva dei dubbi, sicuramente... Devo dire che il Questore della Lega era invece molto più accondiscendente e guardava con molta tranquillità alla mia visione. Secondo lei, praticamente lei sta dicendo che Trancassini... Però no, io sto dicendo questo, che è importante, perché poi si fa passare come se io avessi accusato i colleghi. Io non sto accusando nessuno. Io quando dico che i colleghi alla fine sono arrivati alla mia posizione, che il 9 novembre abbiamo tutti assieme deliberato questa cosa all'unanimità, per me è stata una vittoria, ma nessuno mi può togliere il fatto che sono stato io a insistere su questa cosa. Poi Trancassini, benvenuto, alla fine hanno approvato, io infatti non li ho mai attaccati. Il problema è il contrario, quando loro attaccano me, dicendo delle cose magari che non sono vere. Ora io ho visto l'intervista che è stata fatta con lei. Quindi il discorso è questo. Non è stato intuito male ed è stato percepito male quello che è successo, perché in ufficio di presidenza io non ho mai detto che ci sia stata una discussione. questo è il discorso. In Collegio dei Questori c'è stata un po' di discussione, alla fine della quale siamo arrivati tutti all'unanimità. Ma il Movimento 5 Stelle è stato fermo e questa cosa la dobbiamo dire, perché è la verità. Non ho paura a dirla e la rivendico con molta tranquillità. Quindi, insomma, ci sono state delle comunicazioni che hanno fatto comprendere al pubblico che io avessi parlato dell'ufficio di presidenza, che in ufficio di presidenza ci sia stata una battaglia. Non è così. Senta, vuole... Molti hanno, parlando nell'intervista, hanno detto e probabilmente Cerra cercava una rivalza dopo quello che era successo sul bonus dei 5 mila. Ma che rivalza? Guardi, noi la rivalza ce la dobbiamo avere ogni giorno cercando di limitare al massimo i costi e gli sprechi all'interno della Camera. Ogni giorno cerchiamo di farlo. Io cerco di farlo ogni giorno nel mio lavoro di quest'ora. Per quanto riguarda il bonus, ha visto il Movimento 5 Stelle, anzi, la proponiamo a tutti. C'è un'iniziativa che mira a donare tablet e computer alle scuole e non lo stiamo facendo. Quindi non è questo il punto. Il punto è che noi dobbiamo lavorare sempre e spero di poterlo ancora fare con i costori. Nonostante ci siano state, diciamo, delle scorrettezze, spero di poterlo ancora fare nell'arco dei prossimi anni per lavorare, per minimizzare le spese. Però, secondo me, c'è la possibilità di farlo assieme. Quindi io continuerò a farlo giorno per giorno. Questo è il punto. Senta, per quanto riguarda poi tutte le cose che sono uscite dopo, vuole dire qualche cosa? E anche sull'intervento di Giacchetti, come l'aveva trovato? No, il discorso è proprio questo. Giacchetti, facendo parte del Collegio dei Questori, non sa cosa è successo nel Collegio dei Questori. Quindi lui ha parlato di un qualcosa perché, diciamo le cittadini, nel Collegio dei Questori non c'è nessun esponente di Italia Viva. Quindi quello che è successo lo sappiamo io. Tran Cassini, benvenuto, e ovviamente i funzionali della Camera che partecipano alle riunioni. Giacchetti non sa nulla. Quindi Giacchetti ha costruito un intervento per giunta bello, perché è molto bravo a parlare, niente da dire. Però ha fatto comprendere che il sottoscritto, diciamo... Lei non si è arrabbiato quando lui ha detto... Ma ha detto delle cose che non sono vere. Perché, le ripeto, io in Ufficio di Presidenza non c'è stata nessuna discussione, non ho mai detto che ci sia stata una discussione in Ufficio di Presidenza. Lui ha fatto capire questo. Le persone mi scrivono e mi dicono ma tu dici che in Ufficio di Presidenza c'è stato un dibattito, c'è stato un confronto, cosa che non è stata. Assolutamente no. Quindi Giacchetti, nella sua bravura comunicativa, ma nella sua disonestà intellettuale, diciamolo, ha detto che ha fatto comprendere che io dicessi che in Ufficio di Presidenza c'è stato un dibattito, niente di tutto questo. Io mi riferivo al Collegio di Questori, del quale Giacchetti non sa nulla, perché non ha nessuno là. E quindi, se Giacchetti poi si confida con Trancassini o gli altri, non lo so. Però ha fatto stare che lui non sa nulla del Collegio di Questori. Quindi questo è il punto. È stata interpretata male da molti questa cosa. Magari in questa intervista ne approfittiamo per chiarirlo. Del Collegio di Questori i Giacchetti come Italia Viva sanno nulla, se non per sentito dire. Quelli che sappiamo siamo i tre questori e i tre questori io dico la mia verità. Ed è la verità. Certo. Vuole aggiungere altro? Insomma, le è sembrata scorretta l'informazione che abbiamo fatto noi? No, 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 assolutamente. È ovvio che la portata comunicativa del discorso di Giacchetti è stata notevole, quindi capisco che certe volte capita che chi ha una maggiore capacità comunicativa sembra che dica la verità, ma non è così. La verità è quella che lo sto dicendo io con molta tranquillità. E quindi... Va bene. Io la ringrazio. Mi ha fatto molto piacere che lei sia venuto da me, che insomma abbia un po' spiegato la sua verità. Adesso non vorrei che gli altri reagissero male. Le volevo chiedere una cosa. Adesso non vi siete più visti dopo. C'è stato un chiarimento? Non c'è problema. È politica. Si lavora, ognuno dice la sua. Io dico la mia verità con molta tranquillità perché non ho niente da nascondere. Come ha visto non ho accusato nessuno, non ho attaccato nessuno in queste interviste. Sono abbastanza tranquillo, quindi non penso ci siano ulteriori ripercussioni. Io ho detto la mia verità e sono molto tranquillo. Senta, grazie e ringrazio l'onorevole Scerra del Movimento 5 Stelle, questore della Camera dei Deputati, che ci ha spiegato che cosa è successo nel collegio dei questori. La ringrazio molto. Grazie a lei.